Il teatro italiano dovrebbe essere di default contemporaneo, il teatro è contemporaneo, il National Theatre è contemporaneo, questo sarà dal centenario, per il prossimo triennio più o meno la nostra, poi faremo una grande conferenza stampa su questo, ma la forza del teatro è che avendo grandi scrittori spesso racconta in anticipo questo testo, quando fece Oleanna, le moleste sessuali, Oleanna, mamma dello scrisse 26 anni fa, la stupidità della politically correct e l'ha predicato contro per 26 anni finché finalmente si è crollato tutto, 30 anni ci sono voluti perché la gente intuisse quello che, ma a me ti aveva intuito 30 anni fa, c'è una parte di malafede da parte del mondo, c'è una parte di stupidità anche da parte del mondo, la forza del teatro è proprio questa, nei classici, cioè nell'usare il repertorio, per cui vanno fatti come classici, perché la gente ha diritto a vedere Romeo e Giulietta, come è stato scritto, perché è un capolavoro, e poi ci sono degli equivalenti, degli equipollenti, dei correlativi oggettivi narrativi che fanno parte di quel periodo storico dove gli archetipi sono quelli, guardi tutto è già scritto nella Torah, o nella Bibbia come la chiamate voi, è già stato tutto scritto, cioè le grandi racconti, gli architravi narrativi sono quelli, Nadave, Abiu, Esther, Isacco, il sacrificio, c'è già tutto, ogni età, ogni epoca ha una scrittura, per cui il teatro deve con la contemporaneità raccontare oggi, io lo fa tutta la vita, ma non solo Mamet, Shepard, Kundera, Ladurasta, Hanberg, Gianlu, Gallin, per 30 anni ho portato drammaturgia.